La Rex Breda è stata giudicata in via definitiva. Il Tribunale di Pistoia ha formalizzato l'acquisizione che non va però alla milanese Olimpia Real Estate, vincitrice in via provvisoria della precedente Asta. C'è stata infatti un'offerta a rialzo per 400.000 euro che ha portato quindi l'aggiudicazione finale alla società Tuscany Real Estate Development, con sede legale operativa a Pistoia per un importo finale di 3.850.000 euro. La società che ha acquisito l'importante area, 10.000 m2 di superficie con opere pubbliche da realizzarvi per quasi 10 milioni di euro in base alla Convenzione sottoscritta per l'accessione con il Comune di Pistoia, è stata costituita nel luglio scorso per iniziativa di iCubeSRL, una società di partecipazione formata a Firenze nel 2015 dal gruppo imprenditoriale internazionale NST Apparel, controllata dai coniugi Stefani e Lorenz de los Santos, seconda generazione della guida di un grande gruppo filippino nel settore tessile con 7.000 dipendenti. La Tuscany Real Estate Development, che ha comunicato la notizia dell'acquisizione, ha per presidente l'imprenditore pratese Roberto Puccini nel consiglio di amministrazione Raffaele Catalano, operatore economico che controlla un gruppo di società operante in diversi settori e il professionista pistoiese Paolo Salvadori. Con l'ufficializzazione della vendita si apre i termini di 120 giorni entro i quali l'amministrazione comunale di Pistoia dovrà espletare i controlli sullo aggiudicatario previsti dalla legge.